22 giugno 1918, siamo a Lemmie in provincia di Torino, santuario Madonna degli Olmetti. Le donne sostituiscono in fabbrica gli uomini che sono al fronte della prima grande guerra. Le figure femminili, tra macchine e utensili, muovono i primi passi verso la loro emancipazione. Il pittore è Azzeglio, che si firma solitamente con A.Z. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle nuove pubblicazioni.